Vertice a Palermo presso la sede regionale della protezione civile per discutere degli atavici problemi legati alla fruibilità del porto rifugio di Gela. I soggetti coinvolti adesso sperano che al più presto gli interventi strutturali possano essere cantierabili. Si è discusso delle problematiche del porto che ormai sono in direttura del rivo completamente, il porto è completamente chiuso, bloccato. E' emerso che ieri la protezione civile ha presentato un progetto definitivo per l'escavo e l'allungamento del braccio del porto di 120 metri. Il problema adesso nasce nel reperire le somme per quanto riguarda estrapolare questa cifra di 5 milioni e 800 mila euro dal protocollo d'indesa del 6 novembre fra Eni e Regione. Speriamo che il Presidente della Regione si mobiliti nel più breve dei tempi possibili a far sì che si reperiscano queste somme per poter iniziare a mandare in gara d'appalto il progetto di ieri. Il direttore Foti della protezione civile ha detto chiaramente che non ci sarà una ruspa o una draga prima di 6 mesi circa. Quindi questi saranno per me e anche per loro i tempi perché il tempo che il tutto si reperiscano le somme, il tutto vada in gara, non saranno meno di 6 mesi. Quindi a questo ci dobbiamo rassegnare. Ci vorranno ancora mesi prima di poter cominciare ad agire concretamente per risolvere il problema dell'insabbiamento. Tempo prezioso che acquisce la crisi delle attività che insistono nell'area portuale gelese. Il problema è dei pescatori e degli operatori marittimi che ovviamente giornalmente dovranno uscire per andare a lavorare e quindi sono impossibilitati a fare la loro vita quotidiana di lavoro perché non possono uscire dall'imboccatura. Ovviamente nella riunione anche il comandante della Capetineria ha presentato una relazione dove ha relazionato il peggioramento dello stato dei fondali. Tutta la responsabilità, come ha detto il dirigente Foti e della regione Sicilia in persona del presidente Crocetta perché deve convocare l'ultima riunione per cercare di decretare i fondi delle compensazioni.